Sono Franco Cortese, giornalista freelance, critico d'arte. Conosco e seguo la Laura artisticamente da moltissimi anni. È un'artista poliedrica molto varia e nella sua vita ha fatto molte attività, molte nuove invenzioni artistiche. Ha cominciato dall'Antoni, che è un prodotto che ha praticamente brevettato lei. È andata avanti poi con le fuoricornice, con i quadri a olio, acrilico, grafico, acquerelli, acqueforti, eccetera. Tante cose, tanti prodotti con una sempre nuova capacità e volontà di migliorarsi. Sicuramente l'idea mia era di essere eclettica nella mia arte. Fin da iniziare dal quadro, dal fuoricornice, per creare un tutt'uno che abbia, come posso dire, un'anima, un po' di movimento. Per rinforzare ancora questo tipo di movimento, ho creato appunto i Lantoni, nati nel 1996. Il mio intento era di unire il segno al movimento. Quindi di partire da un punto e ritornare al punto di partenza, creando questa illusione di movimento. E' un modo nuovo di vedere arte a tutto tondo, che mi ha gratificato molto, perché ho potuto... Ho cominciato con i Cieli del 99 e poi facendo anche dei ritratti. Insomma, ho sfogato la mia arte in questo modo. Poi non ho ripreso ancora i classici, cioè è un modo... Ho cercato di avvicinarmi a tutti nel modo... Ho cercato di avvicinare arte a tutto tondo, a tutti gli effetti, arte per tutti. Infatti, ultimamente, oltre ai classici, che vedete qui alle mie spalle, di cui sono molto rapita, ecco, per l'immagine classica è quella che mi colpisce di più, che tendo a riprendere, perché a trasformare, a interpretare, soprattutto per quanto riguarda il Caravaggio, lo amo molto, amo molto la sua immediatezza, i suoi colori forti, i suoi contrasti. Comunque, oltre al classico, ho provato tante altre soluzioni artistiche. Da ultimo, ho pensato di fare arte alla portata. Arte alla portata significa che è un'arte proprio adatta a tutti, nel senso che trasforma, cioè è una sintesi del lavoro artistico protratto negli anni, è una sintesi che con pochi segni e con un formato molto minimo, riesce a dare, riesce a dare me stessa, la mia arte, anche con, diciamo, con pochi passaggi e un'arte alla porta, che tutti si possono permettere. Sostanzialmente è questo. Ho iniziato a dipingere da sempre, posso dire, da quando ero nascendo in un paese ricco di paesaggi, di colori, un ambiente che si addice proprio alla pittura, ho subito, da subito amato i colori e ho cominciato a dipingere già fin da piccola. Poi, da piccola come autodidatta. Poi questa passione è diventata più profonda, ho voluto conoscere di più l'ambiente della pittura, frequentando pittori di rilevanza nazionale, facendo dei corsi all'ICS di Torino con la Scuola del Nudo, per poi ritrovarmi proprio a fare dei dipinti che parlavano di me, di riconoscermi nelle tele che facevo. Ho cominciato a fare poi il fuoricornice per dare più vivacità al quadro, per rendere il quadro un unicum che renda più fruibile il movimento nel quadro. I Lantoni sono praticamente una spazialità, un volume, appunto come dicevi giustamente prima, e rappresentano la proiezione, nelle tre dimensioni, di una figura piana. E sono molto importanti perché producono delle novità artistiche, ma non è la sola cosa di Laura Antonietti, perché lei si è proiettata avanti e praticamente esprime degli ossimori, artisticamente parlando, ossia classicità e modernità insieme, ma classicità che non è falsi d'autore, ma è soprattutto e principalmente una rivisitazione delle grandi firme, sotto il suo speciale occhio. Infatti le sue creazioni sono dei micro-universi e macro-universi insieme. Micro-universi laddove dipinge soggetti semplici attraverso tecniche semplici di lettura immediate, quindi plurilinguaggio, diretti a tutti gli spettatori e gli amanti dell'arte. E poi ci sono i macro-universi che sono rappresentati da tecniche più curate, forme più pensate, cromie più equilibrate e soprattutto messaggi. Ci sono dei contenuti, dei messaggi e molto spesso dei simbolismi da capire e leggere. Ecco perché chi si ferma soltanto all'estetica nel linguaggio di Laura Antonietti perde molto. Un'altra cosa molto importante che vorrei dire sulla sua tecnica è che lei sa esprimersi, sa librarsi leggera sulla materia, trasformando le sensazioni e le emozioni e a volte anche le tristezze del mondo e della natura in emozionalità molto chiare, molto visibili e soprattutto riesce a dare allo spettatore quel contatto, quella espressività che lei stessa ha percepito per prima. Nel tuo ambito territoriale di pittura, che stai portando avanti da molti anni a questa parte, le tue opere sono comunque a livello nazionale, internazionale e anche nei paesi limitrofi che noi qui visitiamo tutti i giorni. Dove sono ubicate le tue opere? Le mie opere, sì, diciamo sono un po' ovunque. Ho iniziato a fare mostre anche all'estero, ne ho fatte parecchie e ci sono rimaste delle opere in Spagna, in particolare un lantone a Durango in Messico, in un museo del Messico, in Francia, a Colomar, a Seul, in Germania, in diversi posti, ho lasciato in Svizzera delle opere, però alla fine ho deciso di essere me stessa con la mia pittura nel paese in cui sono nata e ho creato questo nuovo atelier dove produco le opere, dove anche la mia arte viene trasmessa a degli allievi giovani, a dei ragazzi, a delle signore che vengono a imparare oppure vengono a farsi aiutare a dipingere e creando qui il mio ambiente di lavoro e lasciando molti segni nella zona, molti miei segni artistici. Infatti si possono trovare delle mie opere, un crocifisso secondo me molto importante, Cristo di Cristallo, nella chiesa di Robassomero con altre due opere in plexiglass. Poi ho un quadro classico nella chiesa di San Pietro di Quassolo, ho un altro quadro classico nella cappella a Bogno, sempre di Quassolo. Poi la mia ricerca artistica ancora mi ha portato a trovare nuovi materiali come il vetro antiproiettile che sarebbe il policarbonato su cui posso dipingere dei soggetti che con l'ausilio di resine, di ditte importanti che producono resine per tutti i tipi, uso resine artistiche per creare proprio i colori che tengono nel tempo, perché oramai anche il rifacimento dei piloni, ne ho parecchi qui nella zona, piloni voltivi, fatti proprio su questo nuovo materiale che è resistente a tutti gli agenti atmosferici, grazie a queste resine che hanno dei filtri che non lasciano ingiallire, che durano proprio tantissimo nel tempo. Anche le case stesse possono esibire, qui ce ne sono alcune a Quassolo, che esibiscono dei miei dipinti in esterno, non temono più gelo, sole. Anche è un quadro importante, piccolino ma molto importante, nella cappella di San Rocco a Castiglione di Quassolo, una cappella che si presentava molto umida e quindi non si potevano fare dei quadri classici perché si sarebbero rovinati in poco tempo. Ho risolto il problema con questo nuovo materiale che è molto difficile da usare, ci vuole plasmare questo materiale, effettivamente è complesso, però con tanti anni di esperienza riesco a portare la pittura antica di velatura sul supporto estremamente moderno come il policarbonato. Questo è un quadro molto particolare nel panorama espersivo dell'artista Laura Antonietti. Volontà, coraggio e determinazione è scritto e molto altro in più. È molto importante perché, come dicevamo prima, lancia molti messaggi con le sue opere. Questo è il più profondo, il più acuto per le persone sensibili e per chi capisce l'arte. E non solo perché tecnicamente è originale nella sua trasparenza, ma perché ha tutta una storia e un significato che vorrei che Laura stessa lo spiegasse agli ascoltatori. Questo quadro ha un titolo, Due gambe del terzo millennio. Gambe del terzo millennio, sì, come primo piano, ma non solo. In questo quadro volevo far notare che non bisogna solo dare adito all'aspetto fisico delle gambe, ma al coraggio di affrontare la vita oltre alle gambe, che possono avere anche dei problemi, possono avere anche una disabilità, però possono essere superate questi problemi da una grande mente, da un cervello florido che riesca a superare tutti gli handicap fisici. Ed ecco perché il viso della ragazza è trasportato direttamente sulla tela dipinto dalla pittrice, però lì è una mente in fermento che scaturisce, che fa vedere la determinazione, la volontà e il coraggio di Due gambe del terzo millennio. Un ultimo aspetto importante dalla pittrice e anche scultrice, anche se abbiamo visto poco o nulla del suo operato, di Laura Antonietti, è il suo agire artisticamente. È un pennello che è espressivo più che descrittivo, una tecnica che mira alle forme molto elaborate, pensate prima di proporle, per risultati accettabili a tutte le lingue. Un aspetto concreto di questo suo modo di lavorare sono queste due particolarissime opere. Un presepe a 360 gradi su un lantone, di cui vi parlerà meglio Laura, e questa difficilissima opera, di cui vi darà sempre lei, perché è praticamente stata fatta su un bianco e nero, con un'elaborazione molto personale, perché la caratteristica principale di Laura è di personalizzare, anche laddove sono molto chiari i segni dei grandi artisti, dare quel tocco personale. Tutte le sue riproduzioni dei grandi artisti, da Monet a Leonardo, Piero della Francesca, e lo stesso Grande Caravaggio, sono state tutte personalizzate. Prego Laura. In realtà questo è un lavoro studiato, proprio come dicevi tu, sui bianco e neri, perché è un quadro che è andato, è la prima versione di Caravaggio di San Matteo e l'Angelo, che non è stata accettata dai committenti perché c'era l'Angelo troppo vicino al Santo, il Santo aveva i piedi sporchi, insomma c'erano un sacco di cose che non andavano bene, e quindi non l'hanno accettato e ne ha fatto una versione successiva in cui l'Angelo era staccato dal Santo e la posizione era diversa. Questo quadro è andato a finire in un museo in Germania e poi è andato distrutto nei bombardamenti nel 1944, quindi non esisteva più una foto a colori di questo quadro. Io mi sono basata sui grigi, sui bianco e neri, per ricostruire, conoscendo un po' la storia di Caravaggio, ricostruire questo quadro così com'era a colori, quindi è una, diciamo, un'interpretazione per me molto preziosa. Questo lantone invece è un presepe, l'ho intitolato presepe e l'ho dedicato a mia figlia, facendo i ritratti a tutti gli avi della mia famiglia, da mia nonna, il mio nonno che era un bersagliere, zio Ping, c'è un mio ritratto, quello di mio marito, trasformata alla maniera, con i costumi antichi. Poi ci sono i vicini di casa, gli amici di Jessica, i tre re magi sono altri, tre fratelli che abitano vicini a casa mia, e sotto c'è il padrino, la madrina di mia figlia. È un'idea, è un augurio di una vita, di vivere una vita serena con chi ti sta intorno. Ed è stato questo l'idea, un augurio per lei, oltre al presepe natalizio, che è segno di unione, di cose belle, proprio di augurarle una vita bella con chi le sta intorno. È una tecnica comunque molto particolare, difficile nella realizzazione, perché il ritratto nel tondo richiede una specializzazione avanzata nel fare ritratti, perché il tondo sforma l'immagine, però è una gran soddisfazione riuscire là dove è complicato. Prossimamente è in programma un nuovo tipo di arte, un'arte, come posso dire, immediata, su misura, personalizzata. Per tutto questo vi invito a venire a visitare il mio atelier, senza impegno, e i miei quadri sono sempre esposti qui, alla disposizione di chi ne vuol godere, di chi li vuol vedere. Vi invito a venire a qua solo, in via Bibiotetti 29B. Su prenotazione potete visitare il mio atelier e parlare di arte con me. Io ho piacere di incontrarvi per fare due chiacchiere. Infine, per chi volesse avvicinarsi alla pittura o provare il brivido del dipinto, può venire a trovarmi appunto a qua solo e sarò lieta di condividere con voi del mio tempo per creare, per perfezionare la vostra tecnica o per imparare dal nulla. Vi aspetto!